Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, oggi parleremo di dislessia. Un signore è venuto da me e mi ha detto dottore ho mio figlio bla 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 da circa sei mesi è dislessico, il medico, lo psicologo mi hanno detto che inverte le lettere e la diagnosi sia stata dislessia e io gli ho chiesto scusami mi dici una cosa quando è successo e che cosa è successo in quel periodo dal punto di vista emotivo dell'emozione della causa no ma nulla tra te e tua moglie è successo qualcosa sì o no vi siete litigati avete litigato davanti al bambino bla 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 avete fatto battute o cose del genere che l'hanno potuto ferire colpire e chi più ne ha più ne metta dal punto di vista emotivo mi ha detto no 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 non è successo nulla non è successo nulla beh io non non so perché non faccio diagnosi però ti posso assicurare che anche la dislessia proviene dalla mente e soprattutto per i ragazzi o ragazzini quando esiste questo problema diagnosticato da uno psicologo da un medico che è la dislessia io ti posso assicurare che è sempre dovuta ad un conflitto interiore del ragazzo dal punto di vista emotivo che cosa perché ti racconto tutto ciò che cosa può fare l'ipnosi l'ipnosi può fare tantissimo riportare eliminare la causa che ha causato questo problema che la dislessia dislessia cioè l'inversione delle lettere non leggere bene chi più ne ha più ne metta poi su wikipedia vedi dislessia che significa però ormai conosciuto a livello popolare allora se si toglie con l'ausilio dell'ipnosi che magari la può utilizzare un medico uno psicologo uno psicoterapeuta o mental coach un life coach un consular un qualcuno di accreditato e certificato beh ti posso garantire che il problema se ne va subito senza fare mille esercizi mille testi mille giorni chi più ne ha più ne metto ok ci sono casi scientifici al mondo e anche a me è capitato qualche caso con ottimi risultati grazie all'utilizzo dell'ipnosi poi se non hai voglia di andare in giro perdere tempo e quant'altro scrivimi e ti dirò come fare con la tua voce per aiutare tuo figlio o chi ha questo problema della dislessia a uscirse logico che se tu a parte non credere in te stesso nel potere della mente e neanche non fai per non succede nulla tieniti il problemino continua così nessuno ti obbliga però se tu pensi che l'uomo possa e che miracoli succedano anche per chi non crede allora fai quello che ti sto dicendo provaci poi se l'ipnotista a cui ti rivolgi l'ipnoterapista dice non ne ho fatti mai non ci credo non lo so è anche lui i suoi dubbi perché non ne ha fatti mai perché esiste anche la cosiddetta fede ipnotica beh scrivimi in privato in pubblico ti dirò come fare ok con il mio metodo metodo dcs dottor claudio saracino a me poi piace io mi sono sempre definito come san tommaso mi piace dimostrare con i fatti e non a chiacchiere perché il mondo è pieno di chiacchieroni e dei famosi bla bla come dice mio figlio ok fatti e non chiacchiere seguimi su tutti i social vista la mia fan page ipnosi autipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube dando una botticella sulla campanella qua giù e mettendo iscriviti cliccando su iscriviti benessere ipnosi soluzione del dottor claudio saracino e visita anche il mio profilo instagram benessere ipnosi soluzione del dottor claudio saracino e al prossimo video un bacio un abbraccio